Tutto è cominciato perché hai usato il nome falso per difenderti. Il problema non è che hai barato, è che ti hanno beccata. Io baro nella mia dieta, ma non lo sa nessuno perché il danno è all'interno e i primi sintomi sono la morte improvvisa. Perciò, tesoro, cosa ne pensi? Papi, grazie. Come sempre, il fatto che potessi non ascoltarti senza paura di perdermi qualcosa mi ha dato il tempo di valutare e capire quanto sono stata ingrata. Il che significa che devo prendere un treno. Fare il genitore è l'unico lavoro che sai fare sempre nel modo giusto.